Ragazzi, oggi andiamo a riscattare l'ultima, diciamo, non l'ultima, però l'ultima, diciamo, skin di questo passo, cioè esattamente lui, Spider-Man. No, acquistiamo subito, c'è rimasta una stella, va benissimo, lo equipaggiamo, lo vediamo nella sua bellezza grandiosa. Vi ricordo di iscrivervi, lasciate un like, se non ti iscrivetevi, non ci vedete la mia faccia. Salve e buonanotte!